Venerdì alla Libreria Paoline, qui in Piazza Europa, la presentazione del libro Don Milani, Sacerdote di Dio. Un testo importante, molto più importante di quanto non si creda, che costituisce l'approdo di un lungo percorso di ricerca, di rivisitazione al contempo di valorizzazione della figura di Don Milani, iniziato nel 1980 con la pubblicazione di un libro intitolato Il riscatto per le edizioni deoniane e culminato appunto nella pubblicazione di Don Lorenzo Milani, Sacerdote di Dio. Ho avuto modo di conoscere l'autore Alessandro Mazzerelli e credo sia importante non soltanto dare spazio a questa pubblicazione ma porre l'enfasi su alcuni aspetti del cammino spirituale ma anche civile e politico di Don Milani che non sempre sono state anzi oggetto di studio da parte di pubblicazioni che hanno giustamente inevitabilmente valorizzato l'aspetto espirituale e apologetico. Io spero che questa sia un'occasione tanto per valorizzare il percorso umano di Mazzerelli che conobbe Don Lorenzo Milani nell'ultima parte della sua vita quanto il suo percorso di studi e bibliografico. Ecco a distanza di più di 50 anni la figura di Don Milani è ancora attuale? C'è una frase del Vangelo molto bella, et si am si omnes ego non, quando anche tutti io no. Quel no risuona nell'opera di Don Lorenzo Milani ed è il no che ciascun cittadino, ciascun individuo sia esso uno studente, un operatore civile culturale deve saper gridare o anche semplicemente con fermezza pronunciare sottovoce qualora i destini dell'economia e della cultura si sovrapponessero in maniera impropria e soprattutto deleteria. Questa secondo me è la necessità di una testimonianza cristiana oggi e della quale l'opera di Don Lorenzo Milani possono farsene elemento mediano. Ecco chi saranno i presenti all'iniziativa e ricordiamo l'appuntamento. Oltre all'autore Alessandro Mazzerelli saranno presenti all'incontro che come già detto sarà venerdì 25 gennaio alle ore 16 presso le librerie Paoline l'operatrice culturale, saggista e docente universitaria Giovanna Lo Sapio e il segretario del centro di formazione bolognese Don Lorenzo Milani e scuola di Barbiana, Manrico Casini Velca.